ciao questa sarà la seconda parte del tutorial perchè ho dimenticato una cosa qualche cosa che forse non ho fatto vedere per prima cosa facciamo un'ascia naturalmente ve lo faccio prima vedere prima che inizi a spiegare adesso credo di aver fatto vedere tutto ah si c'è una nuova opzione che qui vedete small, normal, large auto se avete presente se ah questo è nuovo che questo zucchero cresca agli alberi credo che sia nuovo si perchè non l'ho mai visto ma non l'ho visto negli altri tutorial per questo bo ma sarà così sarà solo alcuni alberi poi poi ehm guardate adesso ci sono nuovi 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 ehm ci sono dei nuovi i 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